L'obiettivo del progetto Libro come cura è duplice perché è avvicinare i bambini alla lettura molto precocemente e attraverso la lettura renderli capaci di esprimere i loro sentimenti e le loro emozioni. Libro come cura nasce proprio all'interno di un partenariato con la Fondazione di Agostini che realizza un percorso di formazione con i nostri educatori e con le nostre educatrici e dona gli albi illustrati che poi saranno oggetto delle attività che si realizzeranno all'interno dei nidi con i nostri bambini. Sono coinvolti 50 nidi in tutte le municipalità, quindi in tutto il territorio cittadino in modo tale da poter intercettare un gran numero di bambini e di famiglie. L'educazione alla lettura è fondamentale, i pediatri ce lo dicono con Nati per leggere si sottolinea l'importanza di avvicinare i bambini alla lettura nei primi mille giorni di vita e poi cominciare successivamente e anche poi abituarli a leggere direttamente. In questo caso la lettura si coniuga anche con un'educazione alla gestione delle emozioni quindi il riconoscimento delle emozioni, quindi un lavoro che si fa sull'affettività e sulle relazioni quindi è doppiamente importante questa attività e rientra in un progetto complessivo che noi abbiamo come Comune di Napoli di attivare dei punti lettura all'interno di ciascun nido comunale. Grazie Grazie